Doi laboratori in memoria del giovane studente Antonio Di Pillo, domani 19 ottobre alle ore 17 presso l'Istituto Tecnico Industriale Leonardo Da Vinci di Prato La Peligna si darà la cerimonia inaugurale dei laboratori di automotive e robotica industriale a partire dalle ore 17, uno spazio che sarà un fiore all'occhiello di sperimentazione e innovazione didattica che fa dell'Istituto Tecnico Industriale, già iscritto all'albo dell'eccellenza italiana e del Ministero dell'Istruzione, un esempio di punta per tutto il territorio. I laboratori saranno intitolati a un nostro caro studente Antonio Di Pillo sottratto troppo giovane all'affetto della famiglia, dei suoi amici che simbolicamente incarna i principi e i valori che guidano il nostro operato una scuola viva partecipe alle sorti della società che trasmetta l'importanza dello studio e dell'impegno civico in una dimensione comunitaria di condivisione e di stimolo per la crescita e lo sviluppo della persona fanno sapere dal polo fermi. Nella cerimonia interverrà oltre al dirigente scolastico Massimo Di Paolo anche il vescovo di Smonavalva Monsignor Michele Fusco un'iniziativa che si è resa possibile anche grazie al contributo della Banca di Credito Cooperativo che si conferma attenta al territorio.